Pensavi ti avessi portato una grappa e invece non è una grappa. Questo è un vino con una bottiglia un po' particolare. Di design. Di chi stiamo parlando? Gairof. Gairof è un'azienda nel Trentino, siamo a Roverè della Luna, provincia di Trento. Di fatto siamo tra Bolzano e Trento. Siamo ancora in provincia di Trento ma siamo proprio in mezzo lì, in vista anche dall'autostrada. E questo è il suo Gold Muscat Teller, ovvero Moscato Giallo. Moscato Giallo a me risulta che sia un vitigno più tipico dei Colli Padovani. Allora, diciamo che viene coltivato molto anche nella nostra zona, nei Colli Ugani, dove prende il nome di fior d'arancio. Che tu sai. Che a te piace particolarmente. Ok. Viene fatto però in versione, tradizionalmente viene fatto in versione spumante, ultimamente anche in versione passetta, ma il Trentino ha una storia con Moscato Giallo che però lo fa leggermente diverso. È un vino fermo, fa un po' più di gradazione alcolica, questo in particolare fa nove gradi e mezzo. Di solito il fior d'arancio, quello che piace a te, siamo sui sei gradi e mezzo. Sì, molto leggero. È quello che non mi ubriaco mai. Sì, potremmo fare una sfida. No, meglio di no. Ed è meno dolce, solitamente meno dolce. Ora lo assaggeremo, però come tipicità è un prodotto che è un po' una via di mezzo tra l'amabile e il dolce. Sentiamo intanto. Beh, profumi non manca. Già il profumo abbiamo convinto. È un vitigno aromatico, quindi diciamo che profumi non mancano. Il profumo è veramente interessante. Lo trovo estremamente complesso. Sai che frutto ci sento io? Non vedo l'ora che me lo dici. L'uva. Ma che strano! Che strano! Allora, perché uno non deve sentirci l'uva? Vabbè, tu dici l'uva proprio quando la mangiamo fresca. Il frutto. Il frutto, sì. Io ci sento proprio l'uva. Come mi aspettavo, non è un vino dolcissimo. Allora può andare bene con una pasticceria secca per chi non ama i vini super dolci. Sì, ma anche come aperitivo. Assolutamente. Qui in Veneto poi siamo abituati con con lo spritz che è un aperitivo dolce. Questo ci sta tutta. Come viene fatta questa bottiglia? Allora, la bottiglia non lo so. Il vino, se vuoi, questo vino viene fatto, diciamo, in due situazioni differenti. O meglio, una volta pigiata l'uva viene fatta una parte fermentare fino ad ottenere un vino secco. Cioè, un moscato secco. Un vino, tra l'altro, molto adatto per il pesce. E poi, una parte, invece, viene mantenuta dolce. Viene fermata la fermentazione? Esatto. Alla fine viene fatto una cuvée, a seconda del risultato che voleva ottenere l'enologo. Beh, il risultato, secondo me, è veramente efficace. A te ha convinto. A me ha convinto. E spero che possa convincere anche voi. Noi, come ultimamente facciamo, abbiamo una bottiglia a disposizione per uno di voi che vorrà giocare con noi e vincerla. Poi brinderemo insieme al vincitore? Speriamo di sì. Vaviva. Vaviva. Sì.